Questa mattina da Spinoso in provincia di Potenza è partita una richiesta formale al prefetto Michele Campanaro per un incontro d'emergenza riguardo alla soppressione di otto fermate su quattro linee di trasporto pubblico extraurbano. Queste linee sono cruciali per la mobilità dei cittadini tra i comuni della Valdagri, Potenza e Napoli. L'appello è stato firmato da nove sindaci della zona, ovvero da Spinoso, Armento, Brienza, Gallicchio, Missanello, Montemurro, San Martino d'Agri, San Chirico-Raparo e Sasso di Castalda. I sindaci chiedono l'istituzione di un tavolo di concertazione per bloccare la sospensione delle fermate e alleviare il disagio causato ai cittadini. Questa richiesta arriva in un momento delicato per il trasporto pubblico della regione, che è già in condizioni di emergenza e con servizi ridotti. La decisione di interrompere le fermate, dicono i sindaci, è stata presa dal Consorzio Trasporti Aziende Basilicata, il Cotrab, insieme all'impresa Sita Sud. Le fermate soppresse si trovano sulla statale 598 Fondovalle dell'Agri e includono diversi bivi strategici come Armento, Gallicchio-Missanello, Missanello, Giardini ed altri punti chiave. Il primo firmatario della richiesta, il sindaco di Spinoso, Lino De Luise, ha sottolineato la gravità della situazione. Siamo di fronte ad un enorme disagio per migliaia di cittadini che vedono compromessa la loro mobilità. La soppressione delle fermate impedisce a studenti, lavoratori e turisti di raggiungere i nostri centri o di spostarsi da essi con impatti negativi sul piano sociale, economico e della qualità della vita in tutta la Basilicata. La richiesta è conclusa con un appello alla convocazione di un tavolo urgentissimo di concertazione che includa tutti gli attori istituzionali, sindacati e gestori del servizio pubblico.